Ancora nessuna novità, giunge dal Ministero di Via Arenula a Roma sul fronte dei tribunali soppressi. Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, continua a non dare riscontro alle richieste di confronto sulla vicenda legati ai tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta. Il guardasigilli non ha dato nessuna risposta a chi finora aveva tentato un'interlocuzione. A vuoto è andato il tentativo dell'assessore regionale Bernadette Grasso, che aveva preso carta e penna e aveva mandato al Ministro una missiva per prendere una posizione su questo tema. Nemmeno la sua collega di partito, la deputata nazionale 5 Stelle, l'ispicese Maria Lucia Lorefice, ha avuto odienza da Bonafede, nonostante gli avesse chiesto un incontro proprio il Ministero. La Lorefice è stata anche sollecitata dalla Comitato Pro Tribunale di Modica sulla vicenda della gara di appalto indetta per la ricerca di locali da prendere in affitto dove trasferire gli uffici giudiziari a Ragusa. Anche su questo caso però le richieste sono rimaste lettera morta. L'affitto di nuo locali potrebbe rendersi necessario per le criticità strutturali che presenta l'edificio di Via Natalelli a Ragusa, criticità denunciate anche dai vertici del Tribunale. Nell'immobile saranno anche seguiti accertamenti di natura tecnica per verificare l'entità delle criticità denunciate.